Aveva annunciato novità nel comunicato stampa prima di Natale e la prima è puntualmente arrivata. Nell'attesa di sapere come cambierà la compagine societaria dell'Arezzo, il presidente Marco Ferretti è tornato in città e ha nominato Andrea Riccioli, artefice delle applaudite mosse di marketing, nuovo direttore generale a Maranto, al posto del dimissionario Daniele Lami. Ferretti ha convocato tutto lo staff di Buonora per un incontro che si è articolato su molti fronti. Nella prima parte, consuntiva, è stato stilato un bilancio generale della stagione fino ad oggi. Nella seconda parte, programmatica e più corposa, sono stati affrontati temi tecnici, parlando di calciomercato, in termini di rafforzamento immediato della Rosa, ma anche in prospettiva futura. Ampio spazio dedicato al settore giovanile per il quale sono state tracciate linee guida di lavoro molto serie e ambiziose, partendo dagli ottimi risultati, fino ad ora ottenuti dalle tre squadri, la Berretti su tutte, unica squadra in Italia, a punteggio pieno. Altro argomento discusso è stato inerente la rivisitazione dell'organigramma societario, con revisione di alcuni ruoli e nuove entrate. Il tutto sarà ufficializzato entro la prossima settimana, ma intanto il presidente Ferretti ha anticipato la nomina di Riccioli come direttore generale. Nel frattempo, e a proposito di calciomercato, il primo rinforzo è diventato realtà, con il ritorno di Sergio Sabatino, apprezzatissimo esterno che aveva già vestito la maglia Maganto dal gennaio dello scorso anno, era andato in gol contro il Bassano con 17 presenze collezionate, prima di passare all'Akragas di Agrigento, dove è sceso sempre in campo. Franchino, cross molto profondo, Toninelli allunga, arriva Sabatino, sinistro in corsa! Un grandissimo gol di Sergio Sabatino, porta in vantaggio Laghezzo, al 28esimo, Laghezzo in vantaggio, primo gol innovato per Sabatino che va a esultare sotto la curva Minghelli, davvero un gran gol per l'esterno, arrivato nel mercato di gennaio, si è coordinato benissimo, una bomba di sinistro, strano il tuffo del portiere Rossi.